Buongiorno, volevo fare una domanda a chi ci segue, io non ho ancora un orientamento politico, non ho ancora a chi dover votare, ma volevo dire una cosa, passeggiando così per la città, mi sono posto una domanda, ho detto ma chi è stato arrestato sopra candidato e gli possiamo anche dare il voto e chi vota queste persone è complice di queste persone o no? È una curiosità, qualcuno di voi mi riesce a rispondere, a presto!